Siamo insieme a Mauro Gioielli, il direttore artistico del Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe, che ha segnato un grande successo in città. Direttore, come è andata? Direi che è andata bene, anzi benissimo. Ho trovato molto entusiasmo nella città, nei cittadini, anche nei visitatori e credo che alla fine più che le maschere carnevale, i protagonisti sono stati proprio loro, cioè le persone che sono venute qui a Isernia e che hanno invaso la città, un numero mai visto, io non sono giovanissimo, ma così tante persone, un pubblico così numeroso io non l'avevo mai visto. Qualche aneddoto, qualche curiosità? Ad esempio la maschera della Sardegna, molto interessante perché è stata recuperata sulla base di una poesia, di un gesuita vissuto nel Settecento che era andato a Sorgono, la città da cui sono venuti i sardi con la maschera dell'urso e degli arestes, che è una storia molto bella perché addirittura si parlava di sacrifici umani, sicuramente erano simbolici, ma in questa poesia c'è una descrizione molto cruenta, molto forte. Altri aspetti particolari è la gioiosità dei popoli balcanici perché gli sloveni e i croati si sono dimostrati molto amichevoli con tutti, con noi, appena ci siamo conosciuti subito quelle cose che portano al contatto umano vero e sincero, la bevuta insieme, la mangiata insieme, ci siamo raccontati delle cose, specialmente con i croati, che come sapete nel Molise ci sono tre comunità croate, molisane, tre paesi ed erano accompagnati da un parroco che era stato diversi anni a Montemitro, quindi c'era anche questo aspetto che ci ha legati ancora di più. Altri aneddoti sono legati ad esempio alle maschere del Carnevale di Aliano perché sono maschere riscoperte sulla base del romanzo di Carlo Levi, Cristo si è fermato ad Eboli e quando io ho spiegato un aspetto della loro pantomima o comunque delle loro scenette, loro non lo conoscevano questo aspetto, nel senso che quando tu parli di queste cose loro dicono noi lo facciamo perché si è sempre fatto, però poi io gli ho spiegato alcune cose che danno al loro Carnevale una profondità storica, addirittura di due millenni come simbologie, come caratteristiche, sono rimasti meravigliati, molto sorpresi ma anche molto felici perché hanno un elemento in più da divulgare rispetto alla loro tradizione. Intanto si guarda, immagino alla prossima edizione, si pensa già a qualche novità o Cavallo che vince non si cambia? Spesso quando si dice lo rifaremo l'anno prossimo, abbiamo intenzione di ampliare l'evento, di perfezionarlo, poi nascono difficoltà organizzative, difficoltà di reperimento di risorse finanziarie, però le intenzioni ci sono e so soprattutto l'associazione che ha organizzato, che è Artemide. So che hanno già in mente parecchie novità e hanno in mente parecchi altri gruppi da invitare, Resernia, Francia, Spagna, Austria, Svizzera, quindi già hanno un quadro abbastanza esatto di quel che potrà succedere.